buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 4 ottobre 2024 cominciamo subito col dire che oggi è san francesco uno dei santi maggiori del nostro calendario liturgico nacque nel 1182 morì nel 1226 in mezzo una vita straordinaria è stato nominato patrono d'italia questo dice tutto sull'importanza di questa figura però noi procediamo con la nostra trasmissione attraverso le previsioni del tempo bene l'avvio della giornata è definito tra nubi e aperture maggiori nei settori meridionali peggiora dal pomeriggio dall'appennino all'ascolano come nel sud delle marche i venti sulle coste spireranno con una tensione media da ovest nord ovest dall'entroterra invece da ovest sud ovest il mare è mosso la temperatura 13 la minima 17 abbassata di molto la massima il sole sorto alle 7 07 e tramonterà alle 18 e 45 oggi vediamo l'apertura per primo sul resto del carlino e vediamo che si parla della dengue ancora la notizia di questo focolaio non possiamo definirlo epidemia di questo focolaio che ha coinvolto pienamente la città di fano quasi quale un quale caso più importante che si è verificato nel territorio italiano comincia a destare anche l'attenzione della unione europea ebbene dengue l'unione europea tiene d'occhio la nostra città casi stabili ma arrivano anche nuove disinfestazioni anzi dobbiamo dire che secondo gli esperti il fenomeno comincia a diminuire per quanto riguarda i casi nuovi casi che si stanno rilevando il focolaio fanese di dengue finisce sotto osservazione della unione europea le cdc il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive ebbene questo centro sta seguendo con grande attenzione l'evoluzione di questa epidemia piccola epidemia segnalata nel centro Italia oltre 100 i casi confermati dobbiamo dire che i casi in modo particolare passano da 102 a 105 a cui vanno aggiunti poi 14 probabili ma di questi 14 probabili qualche appena qualche unità è stata già riscontrata come infetta e nei prossimi giorni sono in programma altre disinfestazioni su tutta la città e questo l'ha confermato il sindaco luca serfilippi che cerca appunto di contemperare soprattutto la presenza della zanzara tigre che è il veicolo che diffonde l'infezione nel nostro territorio vi ricordiamo anche che i kit che si vendono in farmacia così come tutti gli altri prodotti anti zanzara ebbene servono alle zanzare ma non è che servono a curare la malattia e quindi non vanno affatto né ingeriti né usati sull'uomo a parte le pennette che limitano il dolore o il prurito o il fastidio di una puntura quando la zanzara ci ha ormai colpito ebbene questo focolaio di dengue comincia a produrre problemi anche al nostro turismo perché ci sono ancora persone che vorrebbero almeno visitare la città di Fano oppure vengono a Fano per un incontro di lavoro c'era un congresso al tag hotel che doveva essere organizzato in realtà tutto è stato disdetto circa 100 persone dovevano venire a Fano per questa iniziativa ma con la dengue hanno avuto paura insomma e c'è questo problema decine di prenotazioni disdette il virus intacca anche il turismo lo dice il direttore del tag hotel Gino Sanchi c'è una psicosi dal ministero non c'è rischio che diventi endemica qui insomma non è una malattia endemica del nostro territorio però insomma non dobbiamo sottovalutarla perché quando poi uno rimane infetto a causa del del morso di una zanzara vabbè la situazione comincia a essere molto molto preoccupante vediamo ora le altre notizie pubblicate dal resto del carlino abbiamo una presa di posizione di Tiziano Busca che è il coordinatore provinciale del partito socialista che prende le mosse da un articolo che ha pubblicato ieri il resto del carlino sulla crisi del commercio in centro storico a Fano ebbene sulla cultura decidono le associazioni del terzo settore dice Busca la delega del comune è totale e il comune dovrebbe riprendersi un po la sua guida di carattere politico amministrativa e vediamo invece una buona notizia per quanto riguarda Ponte Sasso ma io direi per tutta la città ebbene la regione ha sbloccato 18 milioni di euro per Fano la cifra è molto consistente nell'incontro post alluvione di martedì scorso a Ponte Sasso Sabrina Maiuri della struttura a supporto del sub commissario alla ricostruzione Francesco Acquaroli aveva annunciato lo sblocco entro il mese di ottobre dei fondi regionali per la ricostruzione ebbene il sindaco Ser Filippi ha annunciato che esattamente 17 milioni 750 mila euro sono destinati alla città di Fano e di questi 17 milioni 8 milioni vengono destinati a Ponte Sasso per risolvere il problema idrico che ancora oggi insiste in quella città ed esplode ogni volta che c'è un grosso temporale. Ieri per fortuna l'allarme arancione è stato meno così meno meno importante di quello che si annunciava e non ci sono stati danni a Ponte Sasso. I fondi comunque sono stati inseriti nella ordinanza che si aspettava. 2 milioni e 50 mila euro sono invece stati stanziati per le aree collinari. 7,7 milioni per il collettore di Viale Piceno dove ristagna l'acqua ogni volta che piove e sappiamo benissimo che scorre la statale 16 del tratto urbano. Quindi nuove risorse per la città e speriamo che i progetti vengono fatti con giudizio e vengono fatti celermente. E poi rispunta, rispunta ogni tanto, ma rispunta anche oggi sulle pagine dei giornali della cronaca il biodigestore. Da quanto tempo si parla del biodigestore? Ebbene è stato localizzato a Barchi, ma c'è sappiamo benissimo come è sorto, tutto movimento contrario per il posizionamento di questo impianto. Ed ora il Consiglio di Stato chiede delle perizie ambientali. L'organo ha disposto accertamenti con docenti scelti dell'Università di Ancona. Il Comitato a difesa del territorio dice che è una sentenza positiva. Dunque, allora, vediamo un po' per l'esattezza, con propria sentenza definitiva, del 1 ottobre. L'organo giurisdizionale, ovvero il Consiglio di Stato, ha stabilito che sono necessarie delle verifiche affidandole ad un docente o a più docenti individuati nel settore dell'ingegneria civile e ambientale dell'Università Politecnica delle Marche. E questo è un studio supplettivo, un studio supplementare che cercherà di definire, insomma, l'esatta ambientazione, proprio di carattere territoriale, di questo impianto. Tiriamo ancora la pagina, passiamo ad Urbino e vediamo che il movimento Urbino, città ideale si congela, lo ha detto il suo fondatore Lino Mechelli, con i pezzi forti Daniela Caponi, che è presidente di Urbino Servizi e Francesco Donanno, consigliere comunale. La rassicurano comunque e dicono che è una scelta momentanea e non irreversibile. Noi rappresentiamo i cittadini e i nostri elettori, hanno dichiarato i tre rappresentanti, li vediamo qui in questa fotografia, Lino Menchelli con i Caponi e Donanno. Comunque c'è un iter per mantenere vivo questo movimento, in questo momento ha una stasi, perché in questo momento non c'è stato poi trovato nessuno che si è preso l'obbligo di portarlo avanti. E sì, siamo in conclusione di un grande evento culturale che si è svolto nella città ducale, e la mostra del Barocci. Così è tornato un figlio della città. Di solito quando ci si riferisce ad Urbino si parla sempre di Raffaello, ed è giusto che sia così, ma Federico Barocci è stato un grande pittore barocco appunto della città ducale. Un pittore che ha interpretato l'ideale soprattutto sacro, perché poi ha fatto pochissimi quadri di carattere profano. C'è un quadro che si ricollega alla mitologia greca, soprattutto alla guerra di Troia, che è un bellissimo quadro, che è un po' un unicum della sua collezione. L'esposizione è voluta dal direttore del palazzo della Pinacoteca delle Marche, Luigi Gallo, ha segnato veramente la storia culturale di Urbino. Domenica sarà l'ultimo giorno, ebbene comunque c'è anche un'iniziativa particolare per venerdì prossimo, venerdì e sabato sarà aperta la mostra eccezionalmente fino alle 23.15. Quindi un'ultima occasione per visitare questa grande esperienza che ha compiuto appunto Barocchi. Una mostra di una completezza significativa che spazia attraverso diverse tecniche usate dal pittore, ma soprattutto racconta un po' tutte le sue fasi, le sue fasi della vita. Quando era a Roma, quando è tornato ad Urbino, le sue committenze, le sue preferenze personali. È stato veramente uno squarcio di luce sulla vita di un pittore che era stato un pochino dimenticato negli ultimi anni. Tartufo. Tartufo è l'ora stavolta di Sant'Angelo in Vado. Lo abbiamo da Qualagna, lo abbiamo a Pergola, lo abbiamo senz'altro anche a Sant'Angelo in Vado. La 61esima mostra nazionale del Bianco Pregiato, che è la chicca veramente della produzione, si prospetta con un programma ricchissimo di iniziative. Ebbene, si parte sabato 12. Inaugurazione è alle ore 18 in Piazza Umberto. Lì ha inizio un itinerario che coinvolge l'intero centro storico per proseguire fino al 27 ottobre. E poi domenica, 3 novembre, con la fiera merceologica, tanti gli eventi, tanti gli ospiti per celebrare l'oro di questa terra. È veramente un prodotto che dà spinto e stimolo alla economia. Passiamo alla pagina di Pesaro, dove ci sono le polemiche. Ci sono le polemiche per le decisioni che i sindaci hanno assunto nella giornata di ieri rispetto alla chiusura delle scuole. La Regione Marche era soggetta ad un'allerta arancione, un'allerta che pesava sulla quantità di pioggia che sarebbe caduta nel nostro territorio, problemi al traffico, alla circolazione, ma problemi anche al regime idrico. E allora, ci sono state diverse decisioni. Il sindaco di Pesaro e di Urbino hanno mantenuto le scuole aperte. Il sindaco di Fano, invece, come quello di Mondolfo, le hanno chiuse. Ovviamente questo ha creato qualche difficoltà alle famiglie, che all'improvviso sono state costrette a mantenere i figli a casa. E chi ha i bambini piccoli, insomma, e deve andare a lavorare, la cosa non è stata agevole. Però, insomma, la città si è divisa. C'è chi ha approvato questo provvedimento e chi li ha contestato. A Pesaro, per esempio, la decisione del sindaco Biancani è stata convalidata dai dirigenti scolastici. Ebbene, ci sono stati dirigenti, come per esempio Riccardo Rossini, che è presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi e dirigente dell'Istituto Agrario, che ha detto che quella del sindaco Biancani è stata una scelta non alarmista, che condivido. E sono convinto, ha detto appunto Rossini, che sia stata presa stando a stretto contatto con la protezione civile. Non capisco perché, se c'è un pericolo a causa dell'allertamento, si debbano chiudere solo le scuole, mentre poi tutte le altre istituzioni possono così operare tranquillamente. Ci sono poi anche altre decisioni a favore di quella di Biancani. Per esempio, si esprime così Mauro Baiamonte, preside del liceo Marconi. In tutta non sta, credo che il sindaco abbia fatto bene. È chiaro che se ci si trova di fronte ad un evento estremo, dove in bilico la sicurezza, le scuole devono stare chiuse, ma così, insomma, non è stato. Beh, comunque giudicare a posteriori quello che poi magari a priori si teme, insomma, è un po' aleatorio, bisogna vedere. Invece chi sostiene la decisione del sindaco Ser Filippi è senz'altro il dirigente del liceo Apolloni, Nolfi Apolloni e Samuele Giombi. Io capisco, ha detto, le ragioni di Ser Filippi. Fano riapre oggi le scuole. Il dirigente dice, prudenza eccessiva, ormai è inevitabile. Col senno di poi la decisione può sembrare eccessiva, ha detto Giombi, ma solo col senno di poi. Comprendo benissimo la scelta che ha fatto il sindaco di Fano e nei suoi panni avrei fatto la stessa cosa. E poi dall'altra parte abbiamo invece il rovescio della medaglia. Famiglia in tilt, organizzarsi, è molto difficile il problema di gestire il lavoro e i figli di casa. Fortuna ai nonni. Chi ha i nonni, questo supporto familiare che può supplire nei momenti di difficoltà, se ci sono entrambi i genitori che lavorano, chi ha i nonni, benedetti i nonni, insomma, ci si può affidare a loro. Ma c'è chi ha condiviso la chiusura, perché i rischi poi sono quelli che si piangono quando poi si verificano veramente. E sappiamo quello che è accaduto a Ponte Sasso non molti giorni fa. Appeso ad un fatto di cronaca, un ragazzino di 17 anni, percorre in bicicletta il sottopasso dei cappuccini. Lo incontrano due extracomunitari, lo fermano, vogliono la sua bicicletta, gli danno due schiaffi. Il ragazzino riesce però a fuggire, però viene malmenato. Ebbene, è un fatto di cronaca importante, perché questo dimostra che, insomma, non c'è molta sicurezza in città. Il padre di questo ragazzo ha reagito con violenza, è uscito di casa, voleva incontrare questi due malviventi, non li ha incontrati, io dico anche per fortuna, perché altrimenti ci sarebbe successo qualcosa ancora di più grave. Mio figlio picchiato da stranieri, volevano rubargli la bicicletta, l'aggressione in pieno giorno alle 17 nel sottopasso della stazione. E poi altro furto in via Contramini, un altro furto di bicicletta, che è stato poi ritrovato vicino ad un kebab, il che dimostra, insomma, la natura di chi l'ha rubato, questa bicicletta, per fortuna, temporaneamente. Vediamo anche un altro articolo che riguarda la Stella Polare. È questa vicenda che è sorta alla ribalta, denunciata dal Carlino, per quanto riguarda la commissione di servizi, di incarichi, da parte dell'amministrazione comunale ai tempi del sindaco Ricci, senza gare, senza appalti e roba del genere. Progetto di 18 righe, pure con errori, e il Comune ha pagato 43 mila euro. Ecco il documento creativo, lo vediamo qui pubblicato in questa tabellina, con cui Stella Polare ha proposto la manutenzione mai fatta dei murales di Pesaro. E parliamo di Don Gaudiano, Don Gaudiano, questa figura emblematica di grande spessore sociale che, insomma, ha caratterizzato la città di Fano, viene spiegato ai ragazzi. Ed ecco la giornata della solidarietà. Giovedì 10, il ricordo di questo sacerdote, al mattino incontro con gli studenti, poi al pomeriggio i racconti del CEIS. A questo punto vediamo anche come a Pesaro si ipotizza la denominazione di un luogo ad Arnaldo Forlani, c'è l'ok, si ipotizza una scuola, oppure la biblioteca è stata votata all'unanimità a questa proposta, una mozione di indirizzo per l'intitolazione. Nel momento ancora non è stato deciso che cosa si vuole denominare, però, insomma, l'indirizzo è quello. E qui vediamo Arnaldo Forlani, a lui sarà intitolato un luogo della città e si stanno vagliando le idee. Non è accaduto, non è passato molto tempo dalla morte di questo grande statista che ha ricoperto i massimi incarichi della nazione, presidente del Consiglio, vicepresidente, ministro, presidente della democrazia cristiana, segretario, insomma, ha ricoperto tanti, tanti ruoli di primo piano. E allora chiudiamo il resto del Carlino e vediamo che cosa ci dice questa mattina il Corriere Adriatico. Anche il Corriere apre con la dengue. Registrati nuovi casi sporadici, 105 in totale, erano 102, sono cresciuti di 3. La curva comunque si conferma in calo, perché sono 3 che non sono sorti proprio negli ultimi giorni, ma si sono iniziati in passato, erano in incubazione. E poi c'è anche il fatto che se ne parla in regione, se ne riparlerà in regione, grazie ad una interrogazione di Marta Ruggeri. Marta Ruggeri interroga l'assessore Salta Martini, vuole sapere appunto come la sanità sta affrontando questo problema, mentre in Consiglio Comunale pone l'argomento Samuele Mascarin. E poi la polemica sulle scuole chiuse. Scuole chiuse per due gocce d'acqua, città divisa sulla decisione del sindaco, contrarie e favorevoli sui social. Ebbene, Sir Filippi reagisce e dice anche la mia compagna si è assentata dal lavoro per stare con nostro figlio. Comunque non è stata una grande pioggia, certo è che è piovuto per tutta la giornata e i torrenti, i fossi e il fiume, insomma il livello delle acque è cresciuto abbondantemente. Alluvione, e quindi parliamo di alluvione. Figliolo sblocca 18 milioni e 8 destinati a riqualificare Ponte Sasso. Il sindaco Sir Filippi illustra gli interventi per il dissesto idrogeologico, ebbene, la collaborazione anche dei cittadini, soprattutto quelli di Ponte Sasso, che hanno segnalato il fenomeno, come si evolve e come eventualmente si potrebbe anche risolvere. perché poi tutta l'acqua che viene giù dalle colline attraverso la diga formata dall'autostrada crea molti problemi ai terreni di Ponte Sasso. E oggi, nonostante il maltempo, speriamo che il maltempo finisca, iniziano i malatesta autunnali a Fano. Una serie di eventi che durerà per tre giorni, oggi sabato e domenica, c'è un tuffo nuovo che i malatesta a Fano riportano la città al Medioevo. D'estate si è coltivato un po' l'aspetto ludico, l'aspetto spettacolare della manifestazione, quest'anno, questa volta invece, si incentra l'attenzione più sull'aspetto culturale. E i malatesta a Fano ci riportano in quella ricchezza di cultura che è il Medioevo che preannuncia il Rinascimento. È stato un po' l'inizio di una fase nuova di crescita del territorio italiano. E dobbiamo ricordare anche quello che hanno contribuito a fare i capitani di Ventura, come Pandolfo III Malatesta. E proprio a Pandolfo III Malatesta sarà dedicato il primo appuntamento di questa sera alle ore 21 alla Corte Malatestiana. Ci sarà la proiezione del documentario Le mummie insegnano studio paleo-patologico di Pandolfo III Malatesta del CNR. e il CNR di Bologna che ha seguito un po' tutte le ricognizioni che sono state fatte negli anni 90 sul corpo di Pandolfo III Malatesta. Poi ci sarà anche una spettacolare fiaccolata e ci sarà un intervento di Giacomo Tarsi che parlerà di Pandolfo e delle sue imprese di capitano d'Aventura. E poi ci saranno anche altre iniziative. Soprattutto voglio rimarcare la presenza, la collaborazione degli studenti del liceo Nolfi a Polloni che fungeranno da Ciceroni. Siamo in conclusione. Vediamo anche l'articolo sul digestore. Il Consiglio di Stato ha avviato una verifica tecnica. L'annuncio del Comitato che aveva fatto ricorso l'autorizzazione della provincia e vediamo come invece per quanto riguarda Senigallia sale alla ribalta un maltrattamento in famiglia. Insulti e botte alla moglie. Devi morire, gli diceva il marito. La figlia però fotografa i lividi e il papà va a giudizio e in tribunale ci sono scontrati padre e figlia. Vedremo come andrà a finire. Il prossimo 28 novembre verrà ascoltato l'imputato e dirà le sue ragioni. E con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie a tutti. No no Grazie a tutti.